5, 4, 3, 2, 1 mi hanno visti veramente tanti che doppiano ad esempio i personaggi Disney oppure i Simpsons quindi oggi sono qui per proporvi questo nuovo video fatemi sapere qui sotto nei commenti i prossimi youtubers e i prossimi personaggi di cartoon animati Disney e cose così che volete che io imiti mi scuso e vi dico già che io non sono una doppiatrice ma semplicemente ho visto che piano piano con alcuni personaggi e alcuni youtubers me la cavo un pochino quindi oggi sono qui per registrare questo video detto questo io vi chiedo diciamo 3 like per questa nuova serie e niente detto questo io vi lascio al video ciao a tutti ragazzi sono Lily Meraviglia oggi sono qui tornata per scattare un pochino di cose tutte glitterose che io veramente adoro ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Gianmarco e oggi siamo qui per fare lo slime siamo qui per fare lo slime alle 3 di notte in una casa infestata dai fantasmi hashtag ansietta ciao a tutti ragazzi qui ora ma dove do simone facello la crisi di identità ciao amici e bentornati in questo nuovo video un mostro proprio non seguite il canale di frenchman ragazzi che fa veramente schifo ehi la salve sono io topolino vi va di fare un salto nella mia casa? ah si? grandioso andiamo presente oh ma mettono un po' via ma che sei drogato? 118 chi è un po' il 118? chi è un 118 che ci stanno i drogati sotto al porticato di teramo? e volevi guarda che faccia non se l'aspettava l'aspica 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 hai fatti i soldi? l'aspica l'aspica gentili spettatori bentornati al di pre per il sociale non dire le parole ci sono via la polizia no maria io esco veramente no 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 maria 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 io esco io sono la rockstar più famosa del mondo ti devi spaventare ciao a tutti sono francesco nozzolino e oggi non sono qui per parlare delle zucchine sei una monella sei una monella ciao a tutti sono Gianni e volevo ringraziarvi perché l'ultimo concerto è andato veramente benissimo è tricca e tracca è tricca e tracca musica mi muovo so parlare spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensai di queste voci io ripeto non mi classifico una doppiatrice però boh detto questo fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensavi di questo video se vi è piaciuto qualcuno dei personaggi che ho doppiato fatemi sapere chi volete che io doppi nella prossima puntata e detto questo niente io ragazzi vi saluto anche Topolino vi saluta oh ciao amici noi ragazzi ci vediamo al prossimo video e in più vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i social che trovate il link qui sotto alla descrizione e niente ragazzi ma ci va? ciao a presto ciao belli ciao belli ciao ciao ciao